Nel cuore di una notte oscura e tempestosa, un confronto destinato a cambiare per sempre il corso degli eventi, sta per avere luogo. Romulo, con lo sguardo deciso e la rabbia che gli brucia dentro, convoca Petra nel suo ufficio. Perché mai Romulo è così furioso? Romulo è determinato a superare i propri limiti come mai prima d'ora. La decisione di Petra di portare Dieguito dal suo presunto padre, Gregorio, un uomo accusato di crimini orribili, lo ha fatto infuriare. «Quell'uomo è un assassino! Vuoi davvero dirgli dov'è il bambino?» tuona Romulo, il veterano visibilmente alterato. Petra, cercando di mantenere la calma, difende la sua scelta sostenendo che le voci su Gregorio sono esagerate, e ricordando a Romulo che la legge lo ha assolto. Le parole di Petra, tuttavia, non fanno che infervorare Romulo ancora di più. Alza la voce e rimprovera Petra di non essere mai stata soddisfatta del tempo trascorso alla promessa, definendola una peccatrice destinata all'inferno. Petra non si lascia intimidire e ribatte, ricordando a Romulo che l'arrivo di Gregorio alla tenuta è stata una sua responsabilità. A questo punto, Romulo perde completamente le staffe. Alza il braccio con l'intenzione di colpire Petra, ma si ferma all'ultimo momento, chiamandola invece «cattiva donna». La tensione nell'aria è palpabile. Riccardo interviene per cercare di placare gli animi, criticando la scena a cui sta assistendo. Romulo, con solo Riccardo al suo fianco, spiega che Petra è arrivata al punto di rapire il figlio di Pia con l'aiuto della Marchesa. «Sembra dignitosa, ma in realtà è una criminale», afferma deciso. Romulo è convinto che ci sia un modo per fermare Petra. Ma come? La tensione nell'ufficio è ormai insostenibile, e il confronto ha portato alla luce questioni profonde e irrisolte. Cosa pensate voi? Petra è davvero una criminale o c'è altro sotto? Commentate qui sotto con le vostre opinioni. Solo il tempo potrà dire se la verità e la giustizia prevarranno alla promessa. Riuscirà Romulo a fermare Petra, o ci sarà un colpo di scena inaspettato? Restate sintonizzati sul nostro canale per scoprirlo. La prossima puntata potrebbe svelare segreti che cambieranno tutto.